Sembrava che la pausa ci avesse giovato per l'illusorio inizio e impatto che abbiamo avuto sulla partita che è stato un ottimo impatto con tante conclusioni aperte e facili però poi credo che Varese meritatamente ha portato a casa questa partita perché ha mostrato un'aggressività per i restanti 30 minuti certamente diversa dalla nostra e questo gli ha permesso poi di rientrare dentro la partita noi abbiamo concesso secondo me innanzitutto troppi rimbalzi ma soprattutto ci siamo basati molto sul fatto di aver segnato questi primi canestri continuando a tirare anche se abbiamo preso tanti tiri aperti senza essere contrastati abbiamo provato a mettere la palla dentro senza grande successo certamente una prestazione sotto tono rispetto a quelle che sono le nostre potenzialità ma non vorrei nemmeno levare meriti a quella che è stata la prestazione di Varese una squadra che sapevamo essere in condizione, essere tosta credo che ho fatto fatica a trovare sempre dei quintetti che potessero essere dentro la partita rispetto a quello che era l'andamento della partita abbiamo fatto fatica a comunicare con i quintetti in campo e questo poi rispetto all'aggressività di Varese si è tramutato in un rincorrere ripeto, Varese che una volta che ha preso il vantaggio noi siamo stati sempre con molta frenesia a dover rincorrere dobbiamo cancellare subito, fare tesoro di quello che è stata questa partita perché dopo domani ci aspetta, dobbiamo andare a Salonico che è una partita molto dura, molto difficile cercare di recuperare certamente qualcuno che come si è visto non era totalmente presente e pensare alla prossima partita analizzando naturalmente quello che è stato fatto di non buono stasera e certamente alcune cose ci sono